Ancora una partita vietata ai deboli di cuore, ancora un supplementare regala alla Epicasa una vittoria nella seconda giornata di ritorno. Brindisi si impone sulla Virtus Roma 88-81 al termine di un match equilibrato, con i laziali che tuttavia hanno meritato di vincere. Era la partita dell'ex per Piero Bucchi, accolto da un lungo applauso al suo ingresso sul parquet del Palapentassuglia e premiato prima della palla in due dal presidente Nando Marino. Il primo quarto è di studio con i padroni di casa che fanno subito la voce grossa, Thompson segna 11 punti con 3 su 4 dalla lunga distanza, mentre per gli ospiti ci pensa Jefferson a realizzare i primi punti. A fine frazione sono i biancozzurri avanti 20-15. Basta metà frazione a coach Bucchi per mescolare le carte, trovare il miglior quintetto e dal meno 5 del primo tempino trova il pareggio a 4,50 dalla pausa lunga. Brindisi soffre la difesa al limite del falo dei giallorossi, sbaglia molto, ma Banks, Stone e Brown provano a scaldare i motori. La Virtus appare più fresca in campo e con Baldasso in cabina di regia gestisce il vantaggio 35-32 a riposo. Nella ripresa si torna in campo con Banks da una parte e Dyson dall'altra che iniziano a dettare i ritmi con giocate spettacolari. La Epicasa è più squadra, mentre la Virtus si affida alle individualità. Il capitano della New Basket, che nei primi 20 minuti aveva realizzato appena 4 punti, al trentesimo ne ha 14 gli stessi dell'avversario Dyson, ma sono sempre il laziale a guidare la gara, 58-55. Nell'ultimo tempino, oltre a Banks, entra in partita anche Brown, che sotto canestro e dalla media riesce a mettere dentro punti importanti per il sorpasso. Roma è brava a rimanere aggrappata e con le penetrazioni di Dyson e le giocate in area di Jefferson non si allontana mai. Proprio Dyson segna la bomba del più 3 a pochi secondi sul possesso bianco-azzurro. Coach Bucchi ordina il fallo ai suoi, nessuno sente e Martin risponde con la tripla della parità, che porterà al supplementare. Nei cinque minuti successivi è ancora massimo equilibrio, fino a 31 secondi dal termine sul più 3 brindisi, 84-81. Roma sbaglia la rimessa, Banks ne approfitta e sulle gradinate si inizia a fare festa. Poi è Tyler Stone, con una grande schiacciata, a far partire i titoli di coda. Martedì sera si torna in campo per la Champions League per la sfida col Pauk di Salonico. Discorso ancora aperto per la qualificazione al turno successivo, ma adesso società e tifosi bianco-azzurri si godono il quinto posto in campionato.